Lasciare un messaggio a Radio 24, Zanzara, agli amici Cruciani e Parenzo per risposta a questo signora Di Nolfi che io personalmente non conosco, mai visto, però lì continuano a parlare di me dicendo che devo essere bannato dall'Italia, non mi devono lasciare più entrare. Allora io ho varie persone che vi seguono e mi chiamano e mi dicono Rocco ma rispondi a sto stronzo, ecco io non mi permetto neanche di dire stronzo perché non lo conosco, però, però, mi sono informato, pare che questo sia un promoter delle famiglie e io ho una famiglia, signora Di Nolfi, da 25 anni, fantastica, bellissima, ragazzi stupendi, tutte e due laureate. Nessuno dei due vuole fare il porno star, non so il perché, però non hanno ripreso da me. Mi sono informato su di lei, invece pare che sia stato mollato, che sua moglie abbia capito che probabilmente qualcosa non va, quindi lei che promuove le famiglie, il non divorzio, il sesso sicuro, poi, insomma, predica bene e razzola male. Io lo vedo come un grandissimo desiderio, signora Di Nolfi, io penso sinceramente, ma sinceramente che lei nel suo inconscio sogni che io, signor Siffredi, ti incula. Semplicemente questo, sono convinto che tu vuoi essere inculato da me. Allora, non fai altro che chiamarmi, ci mettiamo d'accordo e se mi piace il tuo culo, ti inculo. No problem.